Sì, scappa, stoppola, che me la dai. Bravo, buono. Bravissimo, quel piedino là, stoppola, che me la dai, bravo, stoppola bene, scappa, stoppola bene di destra, che me la dai bene, guarda bene dove sono, alza la testa quando l'hai stoppata, metti bene quel piedino all'angolo di più, lì, tac, con quel sinistro, buono. Vai, via, fermo, posizione, rimasto, bravo, alzati bene, uno, due, tre, fermo, vai, bravissimo, bravo, alzati bene, non mi girare le spalle, non mi girare le spalle, vai, lì, fermo, lì, vai, bravissimo, sei scivolato? Eh, sei scivolato? Dai, ehi, non stai facendo il passo, eh, Davide, non stai facendo il passo, si è accorto? Eh, dai, non stai facendo il passo. Lo rifacciamo, allora, fermo bene quel piede verso la palla, dai, lì, spingi, lì, fallo quel passetto, lo stai facendo poco, Davide, dai, lì. Oh, già meglio, bravo, ecco, il piede va sempre verso la palla, è un caricamento, ok? Vai, sì, ok, posizione, fammi vedere la posizione, bravo, la posizione va bene, andiamo su, ok. Ok, l'unica cosa, che adesso ti faccio vedere, vieni qua, quando fai la presa, si, fai la presa, ok, porta dentro la palla, da così a così, bravo, ok? Quindi così, esatto, così la palla non ce la dobbiamo far scappare mai, va bene? Vai, ancora. Andiamo, su, sì, eccolo lì, andiamo su, dentro, bravissimo, ok, ok, cambia scaletta ora, cambia scaletta, vai, su, 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 guarda un po' avanti, guarda un po' avanti, posizione, no, la posizione al portiere, com'è? Più giù le vani, più giù, più giù, più giù, più giù, esatto, abbassa le ginocchia, andiamo su, presa, esatto, perfetto, bravo, altra scaletta, vai, Sì, 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 muovi le braccia, muovi le braccia, muovi le braccia, sì, posizione, lì, no, le mani come devono stare, girale un po', girale, girale giù, giù così, piega le ginocchia, lì, ok, aspetta, aspetta, qua, qui, qui in avanti, ok, lì, presa e fai sempre lo stesso discorso, vai, bravissimo, ok, cambia scaletta ora, vai, su, 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 non fa niente, andiamo su, su, ok, andiamo, sì, bravissimo, attento a non stare troppo con le gambe larghe, eh, andiamo, dall'altra parte, su, 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 posizione, le gambe sono troppo larghe, stringili un po', lì, piega le ginocchia, bene, andiamo, su, eccolo lì, meglio quella presa, Cambia scaletta, cambia scaletta, c'è l'ultima, quella 1, 2, 3, a venire avanti, vai, sì, 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 posizione, andiamo su, bravissimo, meglio, 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 non fare due tempi, uno, secco, vai, sì, 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 ok, andiamo su, bravo, Ehi, andiamo su, su i piedi, veloce, bravo, su, perfetto Ehi, andiamo su, veloce, vai, occhio, andiamo, più veloce nell'aria spinta, più veloce nella 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 spinta, Ehi, andiamo su, eccola, ancora, la respinta, la respinta, la respinta, subito, posizione, 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 i piedi ancora, 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 lì. Bene, 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 allungarti bene, stai, tira la mano, tira la mano, vai! Ehi, andiamo su, bravo, ehi, andiamo su, veloce, su, respinta, sì. Ehi, andiamo su, veloce, veloce, bravo, perfetta questa. Dai che va bene, va benissimo, cerca di girare meglio quella parte, esatto, bravo, di più, deve essere più veloce, con il ginocchio, con il sinistro ad andare sotto, e con l'altro bravo a recuperare subito, in il corpo, subito sbilanciato in avanti, ok? Andiamo, su, veloce, eccola, oggi, bravo, bravo, l'hai risolta, stavi cadendo per terra, l'hai risolta con la mano, quello voglio. Andiamo di là. Bene, il ginocchio destro, esatto, e la sinistra avanti, ok, vai, metti di giù. Ehi, andiamo su, veloce, su, vai, bravo, il piede, respinta, 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 sì. Bene. Bene. Andiamo, su, via, ehi, ehi, eccola, occhio che ti sei alzato veramente male là, eh, attenzione, veramente male ti sei alzato, andiamo, su, mettiti là, gira bene, eh, vai, su, perché, perché mi slanci sta gamba destra là, subito dentro, vai, subito dentro, eccola lì, andiamo, subito il piede, la respinta, la respinta, la respinta, la respinta, andiamo, bravo. Bravo, devo andare indietro, eh, recupera bene, stop. Grazie. 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 Grazie.